Houston, Texas. È Natale. Uno strano personaggio sta arrivando in città. E non si tratta di Babbo Natale. Io vengo in pace. Jack Kane. Un poliziotto che fa tutto a modo suo. Che stai facendo? È una scorciatoia! Ma ora tutto questo sta per finire. Io vengo in pace. Hanno tagliato la gola tre uomini armati. Senza dargli il tempo di reagire. Chi si muove con questa velocità? È un alieno. Cosa un alieno? Ma sei matto! È la verità! Il corpo umano ha una piccola carica elettrica. Basta sintonizzare il disco alla carica e... Che diavolo sta succedendo? Io vengo in pace. Dolph Lundgren. E riposa in pace. Arma non convenzionale. E riposa in pace. Vot. 可? Votii. Votii. Votii.